Abbiamo il piacere qui al Caole Film Festival di ospitare nuovamente Francesco Gozzo che quest'anno viene porto un altro cortometraggio dal titolo The Wave. Intanto ben ritrovato Francesco come stai? Sto bene, dai. Ormai sei di casa? Sì, abbastanza. No, mi piace venire qua, veramente molto. Bene, allora parlaci di questo nuovo progetto. Beh, che c'è da dire? Sì, è l'ultimo film, l'ultimo cortometraggio che ho realizzato insieme al team dei ragazzi che mi aiutano nelle produzioni. È sempre un fantascienza, quindi continua un po' la saga dei cortometraggi di prima, quindi come Aura, eccetera. E niente, abbiamo voluto appunto, abbiamo voluto portare il film nei festival e abbiamo continuato quello che avevamo cominciato, insomma. Come mai rimani così aggrappato al genere della fantascienza? Allora, a me piace molto sicuramente la parte narrativa del linguaggio cinematografico, però io arrivo molto dalla spettacolarità, diciamo, dei film d'azione dei miei anni, o comunque insomma di quelli che mi hanno caratterizzato. Diciamo che principalmente il mio genere è proprio nel fantasy e nella fantascienza, quindi è proprio una questione di gusti. Sì, se hai scelto questa linea e vuoi portarla avanti, non c'è nient'altro che ti entusiasma come ti entusiasma a realizzare la fantascienza, ci sta. E ti faccio ancora una piccola domanda, perché una persona dovrebbe guardare questo cortometraggio? Beh, è interessante il lavoro sperimentale che abbiamo fatto, perché è un cortometraggio che è nato in un modo molto particolare, quindi è nato da un'idea di un videoclip, che è poi diventato cortometraggio e nasce anche dal fatto che è comunque un film no budget, quindi è un film realizzato con gli elementi che avevamo a disposizione e la cosa interessante secondo me è vedere quanto magari si può dare lo stesso, si può riuscire a raggiungere un buon risultato, pur non avendo i mezzi per fare chissà cosa, perché la fantascienza e il fantasy richiede budget, però se riesci a trovare delle strategie, diciamo, interessanti, si può realizzare un bel prodotto. Ok Francesco, io ti ringrazio per essere tornato qui al Carlo Film Festival e a questo punto spero di vederti anche il prossimo anno. Grazie. A te. Grazie.